Easy Go Che lo sapevo? Che lo sapevo? Con questi devianti in giro dobbiamo essere molto cauti Potrei farle qualche domanda? Posso entrare? Certo Sera, giovanotto Buonasera Leva una tazza di caffè? Volentieri Hanno dato qualcosa di insolito di recente? Qualche visitatore inatteso? No Niente di particolare C'è qualcun altro in casa? C'è... C'è mia figlia Sta addormento di sopra Avete qualche androide qui? Sì, ci aiutava col giardino Ma ce ne siamo spalassati No C'è... 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 Grazie. Grazie. Come ti chiami? Adam. Mi chiamo Adam. Va tutto bene, Adam. Gli... gli androidi. È molto stanco. È tutto il giorno che lavoro in giardino. Sai qualcosa dei devianti? Ne hai visti? No. No. Io non ho visto niente. Meglio che vada. Grazie per il caffè. Buona serata. C'è qualcun altro in casa? Non è niente, la bella lavatrice. Un vecchio modello fa un rumore terribile. Scusi il disturbo. Buonasera. Ciao, Adam. È andato. È tutto Cagliaris. Siamo sicuro. È rosa. Preparate le vostre cose. Partiamo stasera. 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 Grazie a tutti.